Enzo Pastore e il dottore Enzo Pastore, perché ti chiamo dottore? Perché stai facendo tante di quelle iniziative, ma tante di quelle iniziative sinceramente che se c'è una grossa cultura non si possono fare iniziando dall'università. Adesso questo convegno, ce lo spieghi in poche parole? No, noi abbiamo un solo dovere, quello di offrire il miglior servizio possibile alle nostre società. Credo che in termini di consapevolezza, di coscienza, di convinzione di ciò che si deve fare nessuno possa dirci che non operiamo per il bene delle nostre società. Non è retorica e perché, come tu dicevi, e in dettaglio di questo ti ringrazio, noi ci sforziamo tra corsi per dirigenti sportivi, corsi allenatori, uno è per l'appunto in svolgimento proprio qui all'ISEF di Poggio Marino del presidente Boccia che ringraziamo sempre Antonio Boccia e cogliamo l'occasione per ricordare anche il grande papà di Antonio Boccia, Raffaele, recentemente scomparso, che ospitava d'altra parte le assemblee e il comitato regionale Campania già a bellezza di 30 anni fa nell'aula Magna nella quale questa sera terremo il convegno. Buon sangue, non mente, Antonio prosegue nella scia il papà sia a livello culturale sia a livello sportivo. Come ben vedete, come ben vedi Mario, questo binomio, questo abbinamento cultura e sport di cui oggi finalmente ci si rende conto è un abbinamento fecondo, importantissimo che deve essere portato avanti con tutte le nostre forze. Noi ci sforziamo di farlo e diciamo il fiore all'occello di tutto questo discorso e per l'appunto quello a quale tu faci vicendo il corso di laurea, il corso di laurea breve in giurisprudenza applicata allo sport, quello di Cassino, dell'Università di Cassino. È il nostro fiore all'occello ma è ciò che verrà ben completato anche attraverso i corsi per direttori sportivi o per essere più esatti e appropriati per quello che riguarda l'attività direttantistica, i corsi per la figura di collaboratore nella gestione delle associazioni sportive direttantistiche e poi è equivalente sotto il profilo sostanziale a quella di direttore sportivo ma con una configurazione che giustamente è diversa come è diversa quella dell'allenatore professionista rispetto a quella dell'allenatore direttante ma le regole del calcio sono sempre quelle, il regolamento di gioco è sempre quello, il codice di giustizia sportiva è sempre quello, le norme organizzative interne sono sempre quelle, il regolamento della lega direttanti è sempre quello e noi dobbiamo ringraziare il nostro amico Carlo Tavecchio che ha come dire proiettato l'attività direttantistica per una finalità di qualificazione e di professionalizzazione anche in questo nuovo ambito che sarà essenziale anch'esso per la crescita del calcio. Il resto, Pastore, ce lo racconterà domenica prossima. Certo, grazie. In diretta TV sarà il nostro ospite in Golden Goal. Allora il calcio italiano è in crisi, 20 società di Serie C sono quasi fallite, altri 20 stanno per fallire, sono dati statistici. Mai invece così bene i dilettanti. Adesso io devo riuscire a capire il motivo quale. Tutto deve partire dalla piramide, da chi è in alto praticamente da Tavecchio, da Colonna per quanto riguarda la campagna, ma dagli altri presidenti. Insomma, come mai questo fiorire di dilettantismo contro un incinerimento del professionismo? Sicuramente, come ha detto lei, il mondo dei professionisti di prima e seconda divisione è in chiara crisi. Quest'anno si sono perse 25 società, si prospetta un'ulteriore flessione per l'anno calcistico che verrà 2011-2012. Fortunatamente la Liga Nazionale Direttanti a livello nazionale, il Comitato Regionale Campania, non soffre di questa debolezza. Qual è il segreto? Qual è il motivo? A mio avviso la grande passione che anima il Presidente Tavecchio, la grande competenza che anima tutti i componenti del Direttivo della Liga Nazionale Direttanti e se consentite anche il grande lavoro, la grande fatica che io e Denzo Pastore facciamo qui in Campania, dove ad onda di una situazione ambientale molto, ma molto triste, come tutti noi sappiamo, ad onda di tutte le difficoltà economiche, ad onda di tutte le difficoltà sociali, riusciamo non solo a mantenere in integro il patrimonio calcistico, ma addirittura a migliorarlo. Quest'anno siamo migliorati di cinque società. Pensate che noi siamo già il secondo comitato d'Italia dopo la Lombardia, pur avendo appena cinque province di fronte alle dodici province della Lombardia. Quindi una grande fatica, un grande lavoro, anche talvolta una grande sofferenza, che però poi viene ripagata alla gioia. Presidente Tavecchio a Napoli, mancava da tantissimo tempo, Presidente? Sono venuto all'ultima assemblea che è stata fatta, mi pare, sei mesi fa. Naturalmente io poi qui sono venuto perché oggi succede un evento importante. Per la prima volta qui a Napoli si porta all'esterno una decisione, assunta pochi giorni fa dal Consiglio federale, di mettere in condizioni la Lega Direttanti, la DISE e il settore tecnico di fare praticamente questa grande rivoluzione dei direttori sportivi del mondo direttantistico. Mi sembrava corretto, una situazione importante, dare prestigio a questa iniziativa perché assolutamente necessita il nostro mondo di professionalità. Certo, Presidente, lei sta facendo grande la Lega Direttanti, gli altri stanno facendo piccole le altre lighe. Io parlo a numeri, non parlo alla ragione di fatto, ma comunque non voglio entrare su questo argomento perché posso capirla. Comunque, mai a gonfie vele, ho detto pure a colonna prima, mai a gonfie vele il direttantismo in questo momento. Sta tirando alla grande, la Serie D è displosa in tutta la sua panoramicità di tutta l'Italia. Insomma, è fiero di quello che sta facendo. L'obiettivo mio e del Consiglio Direttivo della Lega è sempre stato quello di elevare, soprattutto per competenza, per impegno, il mondo direttantistico. La Serie D ormai è una realtà consolidata. Lei stessa ha capito che l'approccio nuovo con la Lega Direttanti è vitale. razionalizzare i costi, gestire la gestione sportiva, la comunicazione, il marketing ha prodotto un risultato interessante che l'attuale comitato interregionale che io come commissario presiedo ha chiuso i bilanci a pareggio. Certo, il momento è stato storico perché noi abbiamo fornito ben 16 squadre alla Lega Pro per fare il campionato professionistico e quindi abbiamo depauperato un po' il nostro patrimonio per darlo ad altri. Adesso io credo che il futuro, pur essendo un momento delicatissimo della crisi economica, non ci siamo difesi bene. Abbiamo mantenuto le posizioni su scala nazionale, non abbiamo avuto restrizioni. Abbiamo avuto i giocatori, certo i giocatori nostri sono 1.300.000 non è una posizione semplice da tenere, aspettiamo, ci ha dato molta delusione il provvedimento del 5 per mille, speriamo di recuperarlo col decreto bille proroghe. Ci aspettiamo però una posizione per quanto riguarda i riparti dei diritti televisivi con una mutualità che ci è stata più volte promessa. Certo, Presidente, l'anno scorso di questi tempi venne a Roma per far sì che lei potesse dare gli auguri di Buon Natale ai nostri tre spettatori di Golden Goal. Si è già passato un anno. Si è passato un anno. Vecchiamo maledettamente. Madonna mia. Senta, allora, per la Campania, Abruzzo, Molise, Puglia, Marche, Romagna, ci può dare i suoi auguri natalizi in chiaro? Poi sul satellite lo diamo a tutta l'Europa. Complimenti per questa grande evoluzione vostra, per questa pacifica occupazione del territorio con la comunicazione. Io sono contento, ringrazio delle attenzioni che avete rivolto e che rivolgete al nostro mondo e vi faccio i complimenti per quello che avete fatto e gli auguri di cuore per sempre essere all'altezza di un mondo che pretende e ha bisogno di professionità, ma voi penso che avete dimostrato di averla. Io la ringrazio moltissimo e le dico una cosa, possiamo fare questa trasmissione di livello ormai nazionale grazie alla Serie D? Sono contento, sono contento. Questo vuol dire che abbiamo creato delle sinergie con la comunicazione. Oggi non si è niente se non si è quello che si comunica. Allora, i telespettatori di Golden Goal e Mario Cacciatore li augurano buon Natale, buon anno. Grazie e reciproco a lei.